Partiamo dalla testa. E lo abbiamo detto, partiamo dalla testa. Catania ha bisogno di mettere a posto determinate cose. Io partirei direttamente da qui. Perché non la gestiamo? Diamo la testa a questa statua. Questa statua è proprio all'ingresso, quando si viene a Catania dall'aeroporto da Seracusa, ed è lui, Ferdinando I Borbone, che nel 1860, quando venne Garibaldi, sa, le hanno tagliato le testi. Ma perché? Perché si accattavano cose. Per cento anni, fino al 1964, rimasto impiegato al comune. E' perché gli hanno tagliato anche un dito. Anche il mignolo, perché è un anello importante. E' stato sfregiato. E allora, noi desideriamo che Catania alzi la testa, possa risorgere. Quale migliore occasione metaforica, se vogliamo, che fare? Scusi, sto, sto, sto. E cosa succede? Diamo una testa a questa statua. Abbiamo tante persone importanti catanesi. Catanesi, però, illustri. Renzi. No, Renzi non è Catanese. E' venuto a Catania, ma è Catania. Allora, Pippo Baudo, bella testa di Pippo Baudo. Non vi piace, va bene. Flaminia Belfiore. Flaminia Belfiore. Ma perché Flaminia? Il Quateroso è sempre importante. per l'Equateroso. Torniranno. Come pioveva. Ma ti dimentichiamo come... E' di Uppensa. Che fa? Dimentichiamo. Torniranno cos'è? E' internet. E' internet. Dobbiamo stringere. Perché la gente san noia. Oppure? Oppure Baldo Alberti. Baldo Alberti. Ricordando le serate catanesi del Divino a Nino, va bene. Va bene, in ogni caso. Ma andateci. Se proprio vogliamo un altro personaggio, Gioluto e Umberto di Baghera Umberto di Baghera va bene telefonateci, mandateci un fax scrivete, un whatsapp una cosa, risolviamo questa c'è anche c'è anche la bicicletta di Baghera quella o no chi ama Catania chi ama Catania chi ama Catania chi è innamorato di Catania chi vuole bene a Catania quindi chi ama Catania chi ama Catania ma la potremmo chiamare diversamente perché non l'hai sempre innamorato innamorato